ben tornati siamo sempre qui con la galleria filtri di photoshop proseguiamo con ordine siamo ormai nella cartella distorsione il prossimo effetto che vogliamo andare a vedere si chiama increspatura oceano ora lo mettiamo come sempre a zero vediamo che così è fondamentalmente assente nel momento in cui noi andiamo ad aumentare l'ampiezza dell'increspatura vediamo che è come se stessimo guardando l'immagine attraverso un vetro smerigliato di cui io posso aumentare la dimensione di questa smerigliatura questo effetto è fantastico se si vuole simulare la visione attraverso un qualche tipo di vetro non trasparente smerigliato opaco è molto molto realistico è molto gestibile da degli ottimi risultati non si usa spesso perché non capita spesso di dover utilizzare un effetto come questo però se vi capita di doverlo fare questo effetto è quello che fa per voi grazie a tutti grazie a tutti